Ciao ragazzi, faccio questo video velocissimo per informarmi ragazzi su appunto cosa sta succedendo In poche parole, il pitch ha deciso di rompersi completamente Quindi non posso né più editare video né registrarli insomma, tranne i vlog però Quindi posso registrarli ma non editarli Ragazzi, quindi appunto io avevo già il mondo di wc, un po' solo che non ho potuto editarlo L'avrei editato stamattina, solo che il pitch è morto E quindi appunto mi tocca soffrire e cercare di trovare una soluzione il più presto possibile Perché i video ce li ho ma non posso editarli, anche di qualche essere interessante Che purtroppo ancora una volta non posso editare Mi dispiace veramente tanto Ragazzi non so con quale applicazione per il cellulare avrò montato questa scena Comunque appunto c'avevo il ciclase e mai registrare i video col ciclase perché me lo sono ingoiato ragazzi Quindi scherzo epico finito male ma ragazzi non perdiamo tempo E appunto boh, finisco subito col discorso ragazzi Finché non risolverò i video non ci saranno ovviamente, non posso editarli Anche se mi dispiace perché appunto ho registrato nuove serie Soprattutto su FIFA, quella lì l'ho registrata Solo che non posso metterla perché non posso editarla Mamma mia, tutte le sfighe del mondo Cioè la cosa fantastica no? È che tutto questo mi succede quando? Ovviamente quando mi ritorna la voglia di fare YouTube Cioè è tutto molto bello Comunque ragazzi appunto da me, dal fiume e da tutte le sfighe del mondo Noi ci vediamo con un prossimo video Scusate per l'ennesima attività ragazzi Questa volta non è colpa mia Bye 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 bye